10.000 lecchesi sono già sottoposti alla quarta dose, sono circa il 5% della popolazione. Dai medici un appello agli over 60 ai fragili a vaccinarsi prima dell'autunno. Nonostante le alte temperature, i lecchesi non si fanno sfuggire l'occasione di fare affari con i saldi. Tanti anche i clienti stranieri, dopo gli anni duri della pandemia, la soddisfazione dei negozianti. La polispositiva Val Madrera regala le sue divise arancioni ai piccoli calciatori del Burkina Faso. L'iniziativa di solidarietà è nata grazie all'attaccante africano della prima squadra. Buonasera e ben trovato a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV edizione di Lecco. Oggi apriamo con le vaccinazioni, con il Covid è rallentata la campagna vaccinale. Sono 10.000 i lecchesi che hanno già ricevuto la quarta dose, pari al 5% della popolazione. E ora l'appello dei medici ai fragili e agli over 60 a finire la profilassi entro l'autunno. Sono quasi 7.000 lecchesi che dal 13 luglio, giorno in cui si è aperta in Lombardia la campagna vaccinale per la popolazione over 60 e per i fragili, si sono sottoposti alla quarta dose presso l'Hub dell'ospedale Manzoni. Altri circa 2.000 hanno aderito alla profilassi Covid in farmacia. La corsa prima delle ferie d'agosto con le somministrazioni che inizialmente hanno sempre superato le 350 dosi giornaliere, poi il rallentamento con i poco più di 100 vaccinati il 6 agosto. Il dato totale è di 7.849 vaccinati, di cui 96 prime dosi, tutti bambini, 110 seconde, 770 terze somministrazioni e 6.873 quarte dosi, di cui 1.216 per gli over 80. Nello specifico sono, e non solo quarta dose in questo caso, 2.552 tra 60 e 70 anni, 3.164 tra 70 e 80 e 152 over 90 anni. Numero a cui, oltre alle farmacie, bisogna aggiungere le case di riposo e il lavoro dei medici di base a domicilio. Si arriva a oltre 10.000 somministrazioni. Ha ricevuto la quarta dose, dunque, il 5% della popolazione residente. Dati in linea con le altre province, anche se con la quarta dose perdiamo il primato Lombardo, che ci ha sempre caratterizzato nelle altre campagne vaccinali, che restano però ancora molto bassi. 134 nuovi positivi al Covid nel territorio nelle ultime ore, quasi 48.000 i casi in Italia. Dai vertici della sanità, l'appello ad aderire alla profilassi in vista dell'autunno. Intanto, da oggi, 10 agosto, è possibile prenotarsi sul portale regionale per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie, infezione virale che provoca sintomi molto simili all'influenza, ma anche eruzioni cutanee. Si trasmette tramite contatto stretto, compreso quello sessuale, con qualcuno che ha contratto la malattia. Nessun caso è stato registrato nelle case, dove al momento non è disponibile la vaccinazione. Delle 2.000 dosi messe a disposizione dal Ministero della Salute, nessuna è stata inviata all'ecco. Pauroso incidente stradale, vediamo le immagini. È accaduto questa mattina a Missaia, lungo la provinciale 54. Un diciottenne residente a Cassago si è ribaltato a bordo della sua Ford Fiesta. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo, soccorso e loco è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. E centro di lecco affollato, nonostante il caldo, anzi anche nelle ore più calde, grazie ai saldi. Tanti sono anche i clienti stranieri e i negozianti sono soddisfatti dopo il lungo periodo delle restrizioni. Periodo di saldi, le chiesi non si fanno sfuggire l'occasione. E non solo, qualcuno viene anche da Milano e tanti gli stranieri che fanno i loro acquisti nella patria della moda. Ho comprato qualcosina verso le meridiane, ho speso all'incirca 100-150 euro. Siete in giro per negozi? Sì. Cosa cercate? Un regalo per una nostra amica. Si approfitta dei saldi? Sì, sì, è il momento giusto, quindi bene. Il prezzo è abbastanza contenuto, quindi io non sono molto uno che spende, preferisco comprare due cose al posto di una bella, perché cambiando le due cose si è sempre rinnovati e si fa sempre bella figura. Quindi avete fatto dei belli affari? Sì, certamente, bellissime affari, malgrado i 65 km che ho fatto per venire fino all'Ecco, perché abito in provincia di Milano e quindi siamo contenti e poi abbiamo fatto anche un bel girettino. L'Ecco è molto più ampio di come scelta. Come va lo shopping? Bene, tutto bene, abbiamo comprato alcune cose. E cosa hai preso? Per ora un paio di scarpe e basta. Oltre il saldo in se stesso si vende bene anche gli altri articoli. C'è un po' un entusiasmo in senso generale. Quindi lei dice, a prescindere dai saldi, la gente ha voglia di uscire, di comprare? Questo senza dubbio. Dopo un anno e mezzo di chiusura totale, quasi, o di restrizioni, la gente ha soppi voglia di spendere e c'è maggiore entusiasmo. Ci sono anche tanti stranieri? Ma dicono moltissimi. Abbiamo fatto l'acquisto che avevo già scelto e poi con il Bancomat l'ho portato a termine. È un grosso aiutante, non si fa caso a quello che si spende. E si spende più del solito, perché il posto dei soldini contanti, il Bancomat, metti dentro, poi il cuore non batte neanche, fa niente di non battere. Ora una nota di servizio. La raccolta di rifiuti a Lecco subisce delle variazioni. Nella settimana di ferragosto, in zona 3 l'indifferenziata, sarà ritirata in anticipo, sabato 13. In zona 1 e in zona 5, il giorno dell'umido slitta a martedì 16. E così anche la raccolta della carta in zona 4. Ultima modifica riguarda la zona 5, dove la plastica sarà prelevata mercoledì 17. Restano inoltre chiusi l'ecosportello di via Marco Dogione, un centro raccolta rifiuti di via Bruno Buozzi. Si invitano quindi i cittadini a non esporre sacchi la sera di sabato 14 e la mattina di domenica 15 agosto. Le divise arancioni della polisportiva Val Madrera volano in Africa dai piccoli calciatori del Burkina Faso. L'iniziativa di solidarietà è nata grazie all'attaccante africano della prima squadra. Lui Asao, 24 anni, attaccante della prima squadra di calcio della polisportiva Val Madrera. In Italia è arrivato quando aveva 8 anni, ma il legame col Burkina Faso, suo paese di origine, è ancora forte. Operaio in una viteria lecchese, il calcio è da sempre la sua grande passione, ma da oggi l'arancione della sua divisa verrà indossato anche dai bambini della città africana di Bobo di Ulasso. Qua è nato tutto da un mio maestro del Corano, dove mi chiedeva delle magliette in genere per lo sport, allenamento, partite, e io non ne avevo abbastanza, quindi poi mi sono messo a contatto con la polisportiva e loro sono stati grandiosi, mi hanno aiutato e hanno raccolto tutto l'insieme, magliette di allenamento, di partite, hanno fatto un cartone pieno di magliette. Io le ho portate a maestro e il maestro le ha spedite in Burkina. Bambini felicissimi, quando l'hanno ricevuto erano molto felici, sorridevano perché sono cose che magari alcuni non potevano permettersi di prenderle. Adesso possiamo chiamare Burkivalma. A Valmadrera, con i genitori e alcuni dei sei fratelli, Asa è una colonna portante della sua squadra promossa a maggio in prima categoria. È da 13 anni che sono qua in Italia e nella polisportiva ci sono dentro da 10 anni. Siamo stati promossi, siamo alla prima categoria quest'anno, è una bella esperienza da provare e come dico sempre andiamo a puntare a passare al prossimo step nella promozione. Sei tornato in questi 13 anni in Burkina Faso? Ancora no, però sto pensando di tornarci a dicembre, spero. Ci sono lì i miei nonni, i miei cugini, i fratelli e sorella. La sorella maggiore è lì, ha due figli e sarebbe bello vedere mia nipotina. L'iniziativa delle magliette per i bimbi del Burkina Faso è stata accolta con entusiasmo dalla polisportiva Valmadrera, che conta 500 iscritti ed è sempre vicina alle iniziative di solidarietà. Questa iniziativa è il minimo che possiamo fare, noi praticamente non abbiamo fatto quasi nulla, abbiamo solo risposto a una richiesta di Asao e risponderemo anche in futuro, l'abbiamo già fatto per altre iniziative ad Haiti e su altri posti di ragazzi che hanno più bisogno di noi e io ci tengo molto che la prima squadra sia fatta da ragazzi che siano ad esempio per i giovani, perché noi abbiamo un settore giovanile fortissimo, noi accettiamo tutti, non facciamo selezione, per cui per me è importante queste iniziative che vengano dai ragazzi della prima squadra, i più grandi, perché siano ad esempio per i più piccoli. 10 agosto, quindi in arrivo la notte delle stelle cadenti, tradizionalmente almeno perché in realtà ne cadranno di più tra il 12 e il 13, vediamo come e quando osservare le stelle. Una buona notizia e una cattiva per i romantici in attesa della notte delle stelle cadenti. Quest'anno il picco cade alle 3 di notte, della notte tra il 12 e il 13 agosto. Purtroppo quest'anno le condizioni non sono affatto favorevoli, in quanto c'è la luna piena esattamente il 12 e la luna piena è un grosso fastidio, perché illumina il cielo e quindi cancella gran parte delle stelle cadenti, le rende molto difficili da vedere. Questo non toglie il fatto che si possano comunque osservare le più brillanti. dove andare? Bisogna cercare un luogo il più possibile buio, per non aggiungere altre luci al problema che è già dalla luna, il più possibile con il cielo aperto, quindi non con ostacoli davanti, montagne o case, e il più possibile ad alta quota, ovviamente andare in alta montagna sarebbe l'ideale, ma le si può vedere comunque anche dalle chiese senza nessun problema. Va notato che il massimo è il 13, ma le stelle cadenti di agosto, lo sciame delle perseidi, quelli che vanno chiamati lacrime di San Lorenzo, è uno sciame molto espanso, quindi dura ben tre settimane, per cui è già un bel po' di giorni che si possono osservare queste stelle cadenti e si potranno osservare anche parecchi giorni dopo il 13. 10 agosto, San Lorenzo, notti dei desideri, ma sentiamo cosa dice la scienza. Sono granelli di polvere, detriti di rocce e polvere lasciati sul loro cammino dalle comete quando si avvicinano al Sole. Quando la Terra passa dove è passata una cometa, attraverso questo sciame di polveri, lo investe, un po' come un'automobile che passa attraverso un banco di sabbia o uno sciame di moscerini, e questi detriti entrano nell'atmosfera a velocità altissima, per cui incendiano letteralmente la nostra aria. Qualche noi vediamo è la nostra aria, la nostra atmosfera, che emette luce perché viene riscaldata da questo microscopico sassolino che passa. Le meteore, le cadenti meteore sono la stessa cosa, anzi il meteore è il termine più giusto, si dissolvono tra i 50 e gli 80 km di altezza in media. Se però sono un po' più grosse, possono scendere più in basso, diventare vere e proprie palle di fuoco, e se sono particolarmente grosse, possono addirittura arrivare a Terra, a quel punto se le si raccoglie diventano meteoriti. C'è un appuntamento con il Planetario in programma? Il Planetario non organizza iniziative in questa settimana, proprio perché c'è la luna piena, però avremo una serata osservativa molto particolare il 16 agosto all'agriturismo Costa del Paglio a Morterone, con cena più osservazione del cielo, e molto probabilmente si vedranno anche parecchie stelle cadenti durante la serata. Ci sono anche i mezzi e i volontari della Croce Rossa di Colico a sostenere Hotel Clinique, l'iniziativa promossa a Bormio da Cancro Prima Aiuto, sono già centinaia le persone che hanno aderito alle visite specialistiche in albergo. Oggi siamo qua all'Hotel Cristallo per il secondo anno di questo Hotel Clinique, si è conclusa la prima settimana con tante richieste, un lavoro intenso che non ci aspettavamo, siamo molto contenti, è stata anche una scelta strategica importante avere con noi la Croce Rossa, questo caso di Colico ma anche di Sondero per la parte infermieristica, per cui andiamo avanti con le prossime due settimane che ci aspettano e volevo anche rompere una lancia a favore del nostro assessore del welfare, la dottoressa Moratti, che ci ha incoraggiato nel portare avanti questa iniziativa che quest'anno eravamo in dubbio se farla, in effetti ha avuto ragione lei, abbiamo aiutato anche la sanità di montagna in un periodo di pienone dove sono arrivate anche persone dall'esterno che hanno bisogno di assistenza. La prima settimana è stato un successo come pensavamo e come speravamo, abbiamo avuto molte richieste di visite, quindi questa settimana oltre 50 pazienti si sono avvicendati nel nostro ambulatorio, il problema principale è chiaramente il dolore cronico, quindi con tutte le problematiche che comporta, dolori di tipo artrosico, pazienti con problemi derivanti da erne del disco. Finalmente la terapia del dolore esce dal contesto ospedaliero e va sul territorio, era proprio quello che mancava in un ambito così importante come quello della terapia del dolore, chi si occupa di terapia del dolore lo sa, la vicinanza al territorio, ai cittadini, ai pazienti è la cosa più importante. Siamo saliti grazie all'invito di Cancro Prima Aiuto e con il permesso della dottoressa Gualteroni in quanto l'area è la sua, noi ci siamo occupati della logistica mandando tutti i giorni dalle 8 alle 20 due volontari con l'ambulanza che avete alle mie spalle più un pulmino dove come logistica abbiamo dato il supporto ai medici andando a prendere gli eventuali pazienti a casa e riportandoli. Tutte le persone che abbiamo aiutato e portato qui all'hotel sono state completamente soddisfatte. Questa sera un nuovo appuntamento con itinerari. Alessandro Rigamonti e Donato Moretti ci porteranno in Valfraina alle pendici del Monte Rotondo. L'appuntamento è questa sera alle 20.20 alle 21.40. questo è un alpeggio ancora vivo e monticato ci sono infatti tre ragazzi giovani che qui allevano ancora capre e mucche. Ciao Giacomo, quest'anno sei tu il casaro qua Caprecolo? Quest'anno non ho detto che tocca a me però ci alterniamo un po' io e Cristian. Oggi stiamo facendo le mozzarella. Le mozzarella in alpeggio? Sì, quest'anno abbiamo deciso di provare una cosa nuova che ha avuto successo e siamo stati fortunati. Quindi anche qui in alpeggio vi siete modernizzati? La cagliata è pronta adesso procediamo col taglio. Dopodiché la si lascia riposare per 10 minuti circa e poi si inizia con l'estrazione. Dopo inizio con la fase di filatura e si aggiunge l'acqua calda che serve appunto per farla filare a una temperatura quasi vicina all'ebollizione e poi si inizia con l'affilatura. Inizio a fare i nodi, l'allungo e man mano faccio i nodi e poi li butto nell'acqua fredda, le mozzarella sono pronti. E siamo in chiusura e io vi ricordo che potete seguire i nostri servizi anche sui nostri social. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.